Alleluia, gloria a Dio. Repedetevi e voi riceverete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Alleluia! Perché lo Spirito Santo non può entrare in un cuore spalto. Lo Spirito Santo non può entrare in un cuore pieno di peccati, di odio, di adulterio, di invidia. Lascia tutti i porti, lascia tutti i porti, lo Spirito Santo. Alleluia! Il Spirito di Dio entrerà nel tuo cuore e tu rimascerai per il mezzo della grazia di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è del mondo e il saluto di Dio è di Dio. Lascia l'amore di Dio. Gesù Cristo è venuto nel mondo e il saluto di Dio è di Dio. Sieni, facciamolo vedere a casa mia. Signore, vi sono io. Sì, vediamo, vediamo. Dillero a sé, proprio. Va bene, va bene. Le ragazze in chiesa. Io sto andando in chiesa, vado al bordo, qua. Mi sono pure battezzata. Glorie a Dio, il Signore sta lavorando. Gloria a te, Signore. Gloria a Gesù. Sto facendo... Vai, 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 vai. Alleluia! Glorie a Dio! Glorie a Dio! Lascia di Dio! Pace! Tu riuscirai, alleluia! Mi ricordo che la vita è eterna perché Cristo dice nella sua parola che crede in me ha la vita eterna. Se questa sera, se in questo momento, questo pomeriggio, noi che preghiamo per te, voi avvicinarti a lei e pregheremo per te. Che il Signore ti tocchi, il Signore ti liberi, il Signore spezioni da te. Il Signore ti illuminerà, il Signore ti libererà, perché nel nome di Gesù c'è potenza. Se vuoi questa sera ricevere Cristo, se vuoi chiedere perdono a Cristo dei tuoi peccati, gloria a Cristo! E pregheremo per te, perché nel nome di Gesù le tenebre andranno via. Amén! Glorie a Dio! Nel nome di Gesù riceverai la liberazione, riceverai la salvezza. Questa sera avvicinati, vogliamo pregare per te. Non ti vergognare, non ti vergognare. Avvicinati, pregheremo, puoi venire. Yes! Affinché la presenza del Signore entri nel tuo cuore. Amén! Grazie a Dio! Affinché la luce di Cristo entri dentro di te. Amén! Affinché la luce dello Spirito Santo entri nella tua vita. Amén! Nella tua famiglia e tu diventerai una nuova creatura. In Cristo diventerai un uomo nuovo. Alleluia! Una nuova persona. Cristo vi. Se spezzerà le catene. Vieni che preghiamo. Vieni che preghiamo. Alleluia! Credi, confida nel Signore. Confida nel Signore. Questa parola è la parola di Dio che non tornerà indietro a vuoto. Gloria a Dio! Alleluia! Abbiamo seminato il Vangelo della gloria di Dio e questa parola porterà dei frutti nei vostri cuori. Amén! Perché nel nome di Gesù c'è la potenza. Amén! E ciò ricordatevi, alleluia, di entrare per la porta stretta. Alleluia! Perché il tempo è compiuto. Amén! Santo Sece. Credetemi e credetemi al Vangelo perché l'ira di Dio è vicina, il giudizio di Dio è vicino. Amén! E verrà una fine su questa società. Un'altra per la verità e malvagia. Ma se tu adesso ti avvicini a Cristo, troverai la salvezza. Amén! Dio benedica! Troverai la salvezza. Troverai la pace in Cristo. Amén! C'è questa sera lì dove ti trovi, fai una preghiera di fede, invoca il nome di Gesù col tuo cuore, lì dove ti trovi, nella tua situazione, nelle tue difficoltà, nei tuoi problemi, lì dove ti trovi, tu puoi dire, Signore ho bisogno di te, Signore perdona i miei peccati. Gloria a te, Dio del cielo, io riconosco che sono un peccatore, Dio che sei nel cielo, perdonami, dillo, dillo al Signore questa sera, dili, Signore io credo, oh Dio, che tu hai mandato Gesù Cristo in questo mondo, per salvarvi, per liberarvi, Per perdonarvi, Padre Dio del cielo, che il sangue di Gesù, che è stato dato alla croce del Calvario, mi purifichi in questo momento, io ti chiedo perdono, E che tu possa scrivere il mio nome nel libro della vita, e che ogni giorno vi guidi nella tua volontà, lontano dal male, lontano dal peccato, per seguire Gesù Cristo, è la via, la verità, è la vita. Io confesso con la mia bocca, e credo con il mio cuore, che Gesù Cristo è il Signore. Amè, alleluia, gloria a Dio, è il re dei re che ritornerà dal cielo, la via, la verità, è la vita, il benedetto in eterno, amè, alleluia. Amè, alleluia, gloria a Dio. Amè, alleluia, gloria a Dio.